Una notizia quella della polizia che all'Aquila ha arrestato due dei quattro componenti della banda accusata di aver messo a segno furti in gioiellerie per un ammontare di 27 mila euro. Sono ricercati gli altri due. All'Aquila i quattro il 27 luglio del 2023 avevano rubato sei orologi per un valore di 16 mila 500 euro. Poi il 7 agosto ad Assisi otto bracciali in oro di un valore di 7 mila euro e l'8 agosto a Spoleto un orologio di marca del costo di 4 mila euro.